allora ragazzi diciamocelo lo sapete che gli ultimi watching finiscono sempre così perché finisce sempre così io lo sapevo uscivo un trailer oggi 100% fortunatamente non è il trailer di gameplay quindi domani ci sarà ancora molto da scoprire ma venite in live stasera perché ovviamente parliamo sia del trailer che ci accordiamo un po' con il piano di battaglia per domani per quanto riguarda live e contenuti che sarà una giornata abbastanza complicata mi raccomando se non siete iscritti iscrivetevi mi raccomando shoppate col codice lelex vi ricordo che chi lo inserisce e mi manda la sua shoppata del primo giorno della season del pass verranno ingraziati in un video specifico ragazzi è il momento di reactare siccome è brevissimo ce lo guardiamo senza interruzioni per cui mi rompete le palle dall'alba dei tempi e dopo frame by frame o quasi avrei voluto vederlo su youtube non l'hanno caricato su youtube la qualità dei video su twitter ragazzi è questa qua ancora una volta un cecchino che mira a qualcosa e ci svela un po' di skin vediamo questa stagione mitologica di cui la splash art iniziale è stata già rivelata da un po' possiamo anche analizzare quello una volta che abbiamo finito questo trailer bellina eh con la galassia si è tutta galassia la musica è cioè mi fa piacere che abbiano trovato un brano apposta eh il bombarolo lucendo ragazzi allora intanto va il loop quindi vediamo poche scene ma comunque molto molto interessanti questa è una skin che non abbiamo mai visto perché non è l'angelo che abbiamo guardato ieri l'angelo è alla fine potrebbe essere artemide considerando la dea della caccia eccetera potrebbe essere la trovo anche più carina sinceramente della skin che è stata presentata ieri se posso dire questa cosa questa bestemmia pubblica che so che invece piace a tanti quell'altra e analizzeremo anche la splash alla fine perché è molto molto importante lo dico perché ha un fucile da cecchino punta verso qualcosa della dea della caccia mi viene in mente non lo so vediamo è impossibile stabilire adesso che ruolo ha quando usciranno le skin probabilmente avranno i nomi delle divinità e lo scopriremo lei è molto molto carina hanno scelto questa storia di metterle addosso la galaxy che forse un po' forse un po' trito e ritrito come concetto c'è una volta la galaxy era una skin speciale adesso sta come stile finale di ogni crew giusto per dirvi quindi si ha fatto il tempo che trova diciamo così però abbiamo visto prima dei lupi quindi voglio un attimino capire la situazione ed è in una zona innevata che come sapete i trailer cinematici non hanno una coerenza stretta necessaria con il gioco vero e proprio però comunque va banalizzato va capito bellina con questi occhi così mi piace questa sciarpetta è proprio una cacciatrice lei è una cacciatrice grega e si e a questi sono palesemente suoi dei lupetti l'araldo 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 certamente qui il discorso è che una cacciatrice soprattutto dei tempi antichi si faceva aiutare solitamente dai cani in questo caso lei addestra lupi quindi probabilmente se ho un boss perché non so se è un boss ma se è un boss a questi lupi come scagnozzi potrebbe funzionare in maniera molto simile all'araldo che ogni tot di danno ogni tot di tempo ti evoca questi due tre minion che ti vengono ad attaccare è possibile se poi aggiungiamo a tutti i discorsi che abbiamo fatto dell'altra volta che c'è la possibilità che ci siano armi mitiche con effetti molto speciali se ti dà una mitica che ti evoca due lupi che ti aiutano ragazzi top eh top della vita il cecchino potrebbe essere particolare ma mi sembrano qui siete più esperti voi ma mi sembrano comunque le armi della vecchia season dal punto di vista quantomeno estetico ecco non hanno nulla di così fancy diciamo da essere più simile a roba della grecia fino a la parte quella con il gladiatore più che altro ares che vediamo tra poco ok lei dice stai fermo tranquillo non abbagliare bellini questi lupetti li abbiamo già visti mille volte però bellini ecco allora guardate anzitutto la situazione siamo diciamo in quella che potrebbe essere la residenza di ade quindi l'ade stesso un è bello c'è esattamente il flusso delle anime dei morti bellissimo guardate poi io spero che ci sia questa cosa lo so che tanto i competitive player faranno disattivo agli effetti visivi però quanto è figo questo fumo così quasi benefico cioè potrebbe essere una zona dove tu vai e ti avvelena adesso non voglio fare molto la mia zacchiata città infame o simili però potrebbe anche essere un liquido che non ti fa bene oppure ci si rimbalza solitamente su fortnite siamo a questi livelli qui interessante perché lui ha dei segugi umani almeno parzialmente umani a meno che non lo stanno braccando cioè potrebbero essere dei player che hanno paura a sparargli non credo sinceramente credo che questo sia un classico boss nel senso che ha i servitori di questo tipo potevano inventarsi di più con ade potevano fare lo so degli scheletri di anime ok no potevano fare qualsiasi cosa potrebbero anche essere delle persone che lo stanno braccando non voglio dire però boh non lo so non lo so e lui che è in questo pozzo di anime da cui ovviamente trae la forza si vede pure in hercules una cosa simile se l'avete mai visto bellissima questa zona e in generale è un reparto artistico che a me affascina molto perché certamente non è fantasy puro ma comunque richiama architetture del passato eccetera ho adorato per quanto fosse poco presente a livello proprio architettonico la season dei giurati dico poco presente perché oltre al torrione il castello della temporale c'era pochissimo figuratevi quanto mi caso una season di questo tipo cioè a me fa impazzire sta roba eh questi magari sono skin che lo stanno braccando avessimo avuto una qualità migliore si zoomava riconosciamo la skin diciamo ok questi potrebbero essere dei player che stanno cercando di abbatterlo eh e lui non ne ha paura ma zero proprio e si abbeverà diciamo da questa fonte di anime a cui gli arriva questa sorta di tre animelle che lo vengono a cercare potrebbero essere dei player e lui diventa più forte una fase del boss come funzionerà se ha una mitica associata la mitica che lui è associata e la catena in teoria come funziona boh lo scopriremo è interessante perché guarda guardate allora nel senso pensavo peggio sul design perché è costellato di fumo no è in una zona volendo prendendola molto alla larga è un'unione tra la gente del caos Kevin Energy compresa e Ade perché ha no questo flusso da cui fuoriescono fumi e cose abbastanza pericolose lui con la maschera antigas secondo me hanno voluto fare questa unione che non è male eh cioè può funzionare queste due skin lui l'ho giudicato un po' male mi sta piacendo mi piacerebbe comunque una skin più libera dallo stile di fortnite più fantasy puro però comunque l'ho un po' rivalutata meno male e allora su di lui è finito il discorso cioè arrivano queste anime lo potenziano è una cosa scenica per lui è qualcosa legato alla sua arma mitica è qualcosa che ogni player andando in questa pozza può ottenere boh non lo so non voglio fare esagerazioni da questo punto di vista sulle interpretazioni vedo che gli crescono tipo gli artigli verdi ma sospendo il giudizio attualmente peso e poi qua ovviamente una delle skin più attese nel senso che era ovvio che un eventuale Ares dio della guerra avrebbe assorbito lo stile di fortnite su uno dei design preferiti dagli utenti cioè quello classico del cavaliere nero cavaliere rosso ma applicato ad uno stile più simile alle armature greco romane e raga funziona cioè secondo me funziona di brutto questa è bella non c'era nella splash art iniziale da brividi secondo me questa qui tra l'altro con un'arma che potrebbe essere una frombola no di quelle che hanno un giavellotto però praticamente credo si chiami così con la catena anche questo una corda e la palla da tirare sulla testa dei nemici che come vedete agita vorticosamente e poi boom la schiaccia sul povero corvo egiziano che ovviamente hanno scelto apposta bellino eh purtroppo raga la qualità è una ciofega perché è twitter x anzi sì sì qua la vediamo bene il corvo è crepato e questo è lo stile ovviamente ne avrà di più ragazzi funziona che dobbiamo fare allora forse la catena è data dal fatto della mitica che ha che è la sua quindi c'è questa mitica fatta in questo modo questo è lui ovviamente un po' di stile di fortnite lo conserva tipo qui notiamo la fantastica taschina per le munizioni le catene secondo me dipendono dall'arma che sta tenendo in mano lo stile è questo già visto in parte sì molto fortnite sì forse ste bretelle l'avrei evitate ma ha senso perché in realtà sono i punti di giunzione di due pezzi dell'armatura frontale e schiena quindi va bene e in realtà è fego è fego patti cuore che lo puscia vedo un mirino quindi è impossibile qui non possiamo fare speculazioni di gameplay grosse perché sapete che i trailer spesso non ci azzeccano col gioco vero sono più idee aspetta di una season di questo tipo però io vedendo questa qui mi immagino palesemente che le armi quelle che abbiamo visto adesso rimangono e in più probabilmente la questione delle mod stesse rimane quindi forse modificata forse non serve andare nelle zone di boss anche perché sarebbe strano qui siamo in una sorta di colossale guardate il cielo com'è com'è diverso e vi faccio notare ripeto la musica che hanno scelto figo eh cioè sarà sicuramente un balletto è probabile un balletto o un disco musicale del pass adesso vediamo cerchiamo di capire cos'è figo però bella boom in the face aspettate lo voglio rivedere bellissimo proprio la faccia bello 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 bellissimo eh anche lui no vedi questo verde quindi no perché sto cercando dalla splash art finale traiamo delle conclusioni poi la prendo perché sembra quasi una guerra tra divinità positive e negative ci arriviamo a parlare di questo eh però diamogli tempo ora lui caccia fuori una pistola che però mi sembra la deagle normalissima quindi ha sì sembra proprio la deagle magari mi sbaglio quindi hanno ripensato la deagle questa skin non so cos'è però è ciottone e annanna Ezio? no boh non sapete che non lo so sembra Ezio ma boh faccio fatica ok questa invece è la zona olimpo chiamiamola così guardate questo simbolo sarà sicuramente importantissimo figata stile proprio tempio greco colonne ovviamente particolari due statuone di guerrieri hanno ripreso il tema di menes mi piacerebbe che ci fosse un collegamento cioè non vi dico che vorrei tanto che la realtà di menes fosse questa qui però vabbè alla fine è un collegamento abbastanza cioè dopo il big bang non ha nulla più senso di quello che sto dicendo come capite benissimo però magari ritrovarmelo come npc così una piccola cheat perché il colosseo colossale è sempre piaciuto tanto ma diciamo le componenti romane chiamiamole così o greche nelle mappe di fortnite non hanno mai vinto cioè sono state sempre piccoli luoghi così un po' a casaccio come adesso no? per esempio le colonne ceneaste è la prima volta che vediamo proprio un trionfo di queste architetture ed è bello la statua qui è gigante è pesissima sta cosa cioè questa qua dietro a livello proprio di cioè buildare quanti muri è questa cosa qui? 50? tantissimo eh? fa tantissimo direbbe qualcuno chiaramente tornando seri il bombarolo impugna la mitica di Zeus ergo io credo qui ci sia il boss Zeus e eccolo qui quindi c'è questo fulmine vedete la lancia così le ali ci sarà una simbologia più grande speriamo di sì anche qua vorrei capire che cos'è sinceramente lei si elettrifica però anche qua è un trailer cinematico non è che funziona così magari lancia solo fulmine ci ricordo ovviamente cioè che bello è posso dire che bello è che finalmente sono poteri fichi ma non sono legati a collaborazioni cioè non è Thor questo questo è Fortnite che ti fa la loro reinterpretazione di Zeus che bello cioè so che tanti di voi mangiano e cagano collaborazioni pensando che sia la cosa più bella del mondo in realtà è la morte della creatività se ci pensate perché se tu contatti un'azienda quella ti mette dei pali e ti dice devi fare così devi fare così devi fare così devi fare così non puoi fare questo non puoi fare quello invece tu prendi una cultura una mitologia che te pare e te la remixi come vuoi ed è fico perché qui possono fare come gli pare secondo me è cento volte meglio poi è il martello di Thor sì ma fa schifo Thor vattelo a vedere al cinema non cercarlo su Fortnite capito? so che queste parole saranno al vento e nessuno le vorrà capire però ci terrei a passarvi questo concetto questo adesso ce lo analizziamo bene perché vedete guardate la divisione sembra proprio regno degli inferi ma parliamo pure di quello lì perché me lo son tenuto regno dei cieli ok mites e mortals quindi miti e mortali mortali ma anche loro sono divinità dopo tutto miti oppure mortali noi di Fortnite miti loro capiremo capiremo allora vi apro il vi apro l'immagine così la possiamo zoomare meglio eccoci qua allora qui vedete il sottotitolo che è della stagione mites e mortals non lo ricommenterò iniziamo a guardare dei vari posti allora quindi confermato qua praticamente l'Olimpo dove c'era la bombarola la skin cacciatrice che chiameremo Artemide sperando sia Artemide è questa qui personalmente attualmente la mia preferita mi piace tantissimo la città alla banana romana che torna è perfetto sono contento perché è una delle mie skin preferite e ricordiamolo il mantello di Giulia viene da qua non dimentichiamo mai ecco qui questo è un deltaplano di quei colori che mi aspetto cioè è ovvio che se io penso a la pomposità a livello proprio di ricchezza applicata al contesto mitologico bianco e oro sempre secondo me funziona di brutto guardate questa arco ha tre punte diciamo e è un deltaplano lei è molto carina speriamo non abbia solo lo stile galaxy lo dico perché mi annoia un po' vedere sempre skin gal è bella è bella c'è dubbio però sono un po' annoiato parliamo magari di Zeus allora ne discutevo oggi su Instagram mi raccomando seguitemi anche per mandarmi le foto secondo me c'è questo discorso cioè come posso dire ha senso cioè non potevano farlo giovane per forza perché è normalmente oddio cioè non sempre non in tutte le rappresentazioni però te lo immagini così diciamo no il problema è che è un gioco per bambini Fortnite più o meno no ragazzi giovanissimi chi se la usa una skin così cioè ok è importante che comunque ci siano skin di tutti i tipi e non è detto che debbano giocarci solo i bambini se questo tipo è il 100 non lo so cioè non so se lo usereste mai poi magari c'è lo stile giovane di Zeus non dico che è sbagliato dico solo è vendibile una skin del genere poi come avevamo ipotizzato giustamente no i pallettoni presenti qui ovviamente quindi il Peggy ne risentirà tantissimo e altra cosa la skin di Afrodite chiamiamola così ha le scarpe io sono veramente incazzato adesso ve lo dico ah dell'abbiamo visto secondo me era più figo nel trailer cioè nel suo contesto è figo preso da solo non lo so la corona ci sta andrà visto in game domani domani tanto reactiamo il pass le armi come vedete cioè questa sembra molto la metraglietta combat non sembra neanche che abbia applicato un mirino se non questo qui non saprei dirvi se ci sono ancora le mod forse questo simbolo indica il caricatore esteso quindi si anche quest'arma è comunque al di là della livrea che sicuramente avremo di questo tipo e le ali è il cecchino classico che abbiamo già avuto no è palesemente il cecchino quello col mirino più piccolo non lo so passando al lato inferno perché qua credo che abbiamo visto tutto qui la statua no ok magari c'è una simbologia particolare ma vedete che è tutta una montagna per raffigurare l'Olimpo altra domanda secondo voi centro mappa questo se questo è il centro mappa è un po' pesa capiremo allora allora questi lupi ok i lupi della famosa Artemide che abbiamo visto di là che lei utilizzava per cacciare allora io non sono contento di questa cosa fermiamoci un attimo ok ok qual era l'alternativa secondo te l'ennesimo pesce secco lo so lo so che l'alternativa era pesce secco però raga questo è già cioè questa è una skin che già c'è stata Ripley come si chiama quella lì semplicemente non ha l'armatura da Ego come era Ego e Alter ma un'armatura di Poseidone ed è così mi dispiace sempre ecco raga questa è la nuova forchetta cioè io volevo che questa skin vi regalasse la possibilità di avere un piccone così potevamo fare tutti il set di Giulia e invece perché come sapete è quello di Aquaman della season quindi è recuperabile quel piccone e invece ancora una volta non potete avere un piccone serio perché tra tutte le skin che c'erano Poseidone è quella troll Cerbero cioè vabbè nel senso raga una skin troll ci devesse e fortunatamente è una skin originale per carità del cielo sono un po' deluso da questa scelta però tutto sommato vorrei farvi riflettere che 1 2 3 4 5 6 le altre saranno con l'hub però comunque 6 skin originali almeno almeno queste ta 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 dai Cerbero ovviamente non ha tre teste rappresentato nel mosaico era chiaro che sarebbe stato diciamo del side ade quindi side regno dei morti ovviamente la catena che abbiamo già visto l'altra volta le ali che abbiamo capito essere una mitica non assolutamente oddio potrebbero magari in versione più piccola essere un backpack regno dei morti insomma ingresso dell'ade così architetture molto fiche devo dire sempre non strani cercate o robe incredibili ma a me piace molto questo tema credo che tra l'altro essendo magari italiani con insomma cultura classica ci hanno imbeccato fin da bambini penso che un po' ce la sentiamo addosso questa roba quindi penso ci piaccia almeno a me piace vederlo poi sarà che ho fatto il classico non lo so però mi piazza qui addirittura qualcosa che va a fuoco boh capiremo qui un portale probabilmente qui entriamo nella sala dove abbiamo visto la della prima volta raga io credo di aver fatto un'analisi spero abbastanza completa la mitica di zeus ovviamente quindi una due il cerchino potrebbe anche essere un'arma speciale ma è mitica 1 mitica 2 mitica 3 non so se questo non so se sia una mitica vi dico la verità forse Diana scusatemi Diana è la versione romana Artemide potrebbe evocarti i lupi anche se li vediamo qui però sa anche di Cerbero l'evocazione dei lupi che sarebbero le altre due teste potenzialmente capiamo qui diciamo che tra trailer e immagine ci hanno un po' messo in difficoltà mi raccomando stasera venite in live che facciamo anche il piano di battaglia per domani mattina e pomeriggio per quel che riguarda gli appuntamenti live eccetera vi siete iscritti bravi avete lasciato like 600 like ce l'avete fatta mi raccomando lasciateli e niente ci vediamo alle 20 in live statemi benissimo ciao ragazzi